Poi magari lo laviamo e glielo facciamo. Ma perché? Se ce l'abbiamo direttamente vuoto. Permettete? Sì, sì, sì. Tu dove compi la carne? Io qui, è buonissima. È un calendario. Se lei vuoi che fasse questo complesso. Cappello? Una col cappello e una sezza. Sì, 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 va bene. Sì, sì, metti questo qua. Una mano ogni tanto. Grazie per il tangente che ci stanno dietro.